Ad Angrigento gli alunni del Plesso De Cosmi dell'Istituto Scolastico Comprensivo Montalcini diretto da Luigi Costanza, protagonisti di un inno alla pace. Gaetano Ravanà. La scuola ripudia la guerra, la scuola educa la pace. Gli alunni e docenti del Plesso De Cosmi dell'Istituto Ritalevi Montalcini De Grigento diretto dal Preside Luigi Costanza nei giorni scorsi hanno vissuto con entusiasmo ed impegno momenti di riflessione e di speranza su fatti di attualità che hanno portato prepotentemente alla ribalta la tematica della pace, con la voglia di essere cittadini attivi e consapevoli e di poter esprimere, oltre che la solidarietà al popolo ucraino, anche il proprio sentire e la propria sensibilità. L'augurio dei piccoli è che gli adulti al potere riescano a pensare alla pace in tutte le lingue, con i colori, la fantasia e la stessa bellezza che loro hanno nella mente e nel cuore. Canti, disegni, poesie, messaggi sono un piccolo messaggio e una fresca testimonianza per un cammino un po' lieve per i nostri cuori. Infine una raccolta di fondi spontanei e sentita ha contribuito a creare un momento di vera solidarietà.